Siderno ha brillato sotto le stelle con la prima edizione del festival Le Notti dei Folli, un evento che ha superato ogni aspettativa dimostrando l'energia e la vitalità di una città in continua crescita. Organizzato dall'amministrazione comunale e guidata dal sindaco Maria Teresa Fragomeni, in collaborazione con le associazioni cittadine e gestori di alcuni locali, il festival ha attirato migliaia di visitatori offrendo un'esperienza indimenticabile di cultura, divertimento e tradizione. Ideato dall'Associazione Culturale Francesca Lopresti, il festival si è inserito con successo all'interno della tappa sidernese dell'International Street Food, curata dal consigliere delegato agli eventi Davide Lurasco. Un'iniziativa che ha messo in luce il potenziale turistico e commerciale del centro cittadino, coinvolgendo la zona tra Via Cristoforo Colombo e il Corso della Repubblica, allestita in modo suggestivo grazie al contributo dei cittadini. Un festival che ha rappresentato un autentico sforzo collettivo. Amministratori, dipendenti comunali, giovani volontari e membri delle associazioni locali hanno lavorato insieme per garantire il successo dell'evento, che ha saputo offrire una vasta gamma di intrattenimenti. Nonostante le sfide di budget e il tempo limitato per la preparazione, Le Notte Folli si è rivelato un esperimento coraggioso e vincente, dimostrando che Siderno è una città vibrante e piena di vita. Le migliaia di presenze e i numerosi apprezzamenti ricevuti dai visitatori e commercianti sono la testimonianza dell'ottima riuscita dell'iniziativa, commenta il primo cittadino sidernese.